Di che cosa abbiamo bisogno per sviluppare applicativi Java? Che cosa dobbiamo installare sul nostro PC? Facciamo un po' di chiarezza su tanti termini che a volte si assomigliano e normalmente indicano cose che in parte si sovrappongono. Alla base di tutto abbiamo il simulatore del processore Java in software, la cosiddetta Java Virtual Machine. Questa è in grado di interpretare il bytecode generato dal compilatore Java e in ultima istanza di eseguire il set delle istruzioni previste per questo processore software, insomma di fatto un interprete. Allo stesso modo in cui i linguaggi come il C++ sono arricchiti oltre al nucleo base con librerie e framework, così la Java Virtual Machine non è quasi mai consegnata nuda e cruda sull'architettura sulla quale deve poi svogere i propri compi. Usando le istruzioni base del linguaggio OOP sono state sviluppate una gran quantità di classi tra loro coordinate in veri e propri framework e che sono adatte a risolvere i problemi nelle più svariate situazioni. Questo insieme, classi più Java Virtual Machine, prende il nome di Java Runtime Environment, JRE. Quasi sicuramente ciascuno di voi ha già un JRE installato sul proprio PC. Un Java Runtime Environment, JRE, contiene tutto quello che è necessario per eseguire un bytecode già pronto all'uso, ma qualcuno dovrà pur produrlo, quel bytecode, ed è quello che deve fare il compilatore Java. Il JDK, il Java Development Kit, contiene oltre a ciò che serve per testare e fare la prova delle applicazioni prodotte, gli strumenti di sviluppo, quindi il compilatore Java e altri, tra cui vale la pena ricordare un debugger e anche una console di controllo per il monitoraggio delle applicazioni in funzione. Un Applet Viewer, quindi qualche cosa che possa mostrare in anteprima il funzionamento di una Applet. Il Java Dock, cioè quell'utility che è in grado di generare in automatico, a partire da commenti che trova nei file sorgenti, la documentazione. Il JAR, Java Archiver, quello strumento a mo' di zip che prepara in un unico file tipo JAR un insieme di librerie che sono tra di loro correlate. Quindi in sintesi, il JDK è una estensione del JRE con tutti gli strumenti utili per un programmatore, necessari e utili ad un programmatore per lo sviluppo degli applicativi Java. Non esiste un solo Java Development Kit, ma diversi, ce ne sono di open source, c'è quello ovviamente che viene da Oracle e Sun e altri. Un Java Software Development Kit, in effetti un po' un marasma di sigle che a volte si accavallano e non sempre si riesce a cogliere la differenza, è un qualcosa di più del JDK, nel senso che lo arricchisce con IDE, pensate a un NetBeans, pensate a un Eclipse, o altri oggetti come un Application Server, un Database, come MySQL, quindi potremmo dire, con una certa approssimazione, ma siamo abbastanza sui binari giusti, che il JDK è un sottinsieme di un Software Development Kit. Il nostro punto di partenza sarà installarci un JDK, e poi lo integreremo con un IDE a nostra scelta, quindi senza per forza sposare un pacchetto completo, un Software Development Kit completo. E da questo proposito avrei individuato come pacchetto il progetto open source Eclipse. Perché Eclipse? Perché è dotato di un plugin specifico, che pare sia molto appropriato per lo sviluppo di applicazioni Android. Poi si sa com'è l'informatica, i tempi cambiano rapidissimamente, e per il momento tengo questo obiettivo. Ma anche del Java Development Kit ci sono diverse implementazioni. Il mondo è grossomodo, è spartito tra due, quelle della SAN e quelle del mondo open source. Quindi abbiamo le Oracle o SAN Java Development Kit, e l'Open Java Development Kit. Quale scegliere? Guardate, a questo livello, e soprattutto per un corso che, almeno inizialmente, è solo introduttivo, ce ne possiamo letteralmente fregare. E senza andare a diventare matti con considerazioni puriste sul fatto che sia meglio usare software completamente open source o no. Tenete anche conto che i due Development Kit condividono 90, 95, 99% del codice, in effetti. Per cui c'è un elevatissimo grado di compatibilità tra i due. Chiaro, a seconda di quello che dovrete sviluppare, può essere che utilizzando l'Oracle JDK, abbiate poi comunque bisogno di aggiungere qualche cosetta per poter usare prodotti sviluppati con l'altro, l'Open JDK, o viceversa. E la neutralità della scelta tra un JDK e l'altro è in qualche modo, tra virgolette, dimostrata dal fatto che se andiamo sul sito di Eclipse, e andiamo nella sezione di Download, e da qui facciamo riferimento all'Install Guide, la guida per l'installazione, ad un certo punto, dopo il discorso introduttivo che ormai già conoscete su Java Virtual Machine e Runtime Environment, arriviamo alla scelta del JDK, e troviamo elencati, in ordine alfabetico non di preferenza, quello dall'IBM, l'Open JDK e l'Oracle JDK. Scelgo l'Oracle perché, come ditta, attive tutta una serie di iniziative interessanti per la scuola, e non vorrei che un domani ci fosse un particolare che potrebbe costarmi qualche ripensamento. Secondo me potete scegliere quella che volete, e non avrete nessun problema in ogni caso a seguire la playlist. Devo dire che in ogni caso, Oracle e Sancia ce l'hanno messa veramente tutta a confonderci un pochino le idee con i nomi che assegnano ai loro prodotti e alle diverse versioni. Un'altra distinzione, che a questo punto cerchiamo di chiarire, è tra quelle che Oracle definisce le piattaforme, una la Standard Edition, Java SE, e l'altra la Enterprise Edition, Java EE. Poiché questo non è un corso, diventiamo guru di programmazione Java in due ore, ma introduttivo, limitiamoci ad osservare, banalmente se volete, che tutte le versioni dei pacchetti che si possono scaricare con la soluzione Java Enterprise Edition, sono più legate al mondo aziendale, quindi avremo qualche server particolare in più, qualche strumento di monitoraggio in più, e in generale delle versioni degli stessi strumenti, pacchetti, che potremo scaricare da qua, dalla versione SE, proprio per il mondo aziendale. Questa è la pagina della versione EE, e subito salta all'occhio questo Glashfish, che è un server applicativo. Un normale web server è abbastanza neutro rispetto all'applicativo client che sta funzionando su nostro PC nel browser. È, per così dire, agnostico, cioè inconsapevole di ciò che stiamo facendo. Si limita a ricevere le nostre richieste per certe pagine, se poi queste pagine contengono degli script lato server, si limita a passare gli script all'interpreter corrispondente, a ricevere la pagina costruita e a rimandarcela. Ma è abbastanza inconsapevole di quello che sta facendo. Per lui si tratta solo di gestire richieste HTTP e di inviare i risultati al client. Un application server, invece, è molto legato alla parte client, è consapevole di quello che sta facendo, ed espone per il client che cosa? Una serie di classi, metodi, oggetti, un framework, pensato per risolvere in modo sicuro e efficiente i tipici problemi a livello aziendale. Noi però ci accontenteremo, e con questo chiudo la lezione, di scaricare la versione standard. Quindi, di ciò che definisce la Java Platform SE in versione 7U25, noi ci accontentiamo di andare a scaricare proprio questo pacchetto qua, il JDK. Che poi è ancora questo link, intendiamoci, Java Platform JDK. Infatti arriviamo sulla stessa pagina, come si può notare qua dalla numerazione. Ok, dobbiamo accettare un agreement license, eccolo qua, accept. E poi scegliete la vostra versione, nel mio caso, questo Windows X64. Procedete poi con l'installazione. Possiamo accettarlo. Accettiamo pure la destinazione standard. Benissimo. Successfully install. Sì, qua volendo potremmo andare a scaricare anche tutorial, documentazione, però sono tutte cose che poi ci ritroviamo qua, eh. Quindi pronte per quanto vorremmo scaricarle. Al momento, mi limito, e mi fermo a questo. Close. Ottimo, finisco qui la lezione. Nella prossima inizierò con il dimostrarvi come in realtà si sia già in possesso di tutto quello che serve per produrre applicazioni Java anche complesse. È la fatica con cui lo potremo fare, che farà la differenza nel momento in cui andremo ad installarci Eclipse. Sì.